Luciano, lo sai che il tuo figlio ha rubato le macchine di Franz? Può capire, mio mamma gli vai a toccare i figli dei clienti è andato in pressione come il boiler di una caldaia industriale è diventato rosso, secondo tutte le gradazioni che mi aveva insegnato la prof di disegno rosa, rosa scuro, magenta, cremisi, rosso di persia, rosso veriziano, amaranto, vermiglio, scarlatto rosso bordà, che già a rosa scuro io ho cominciato a scappare scappa attorno alla pensione e vado di qua e vado di là e mio babbo che mi correva dietro fermati birichino e la mia mamma lasciati prendere e il mio babbo che mi correva dietro se ti prendo ti amasso e la mia mamma se lo picchi non gli fare male a un certo punto è arrivato al 32esimo giro, si è sdraiato, ha finito sul divano e ha detto vai vai imparerai a fare il bravo quando vai nei militari, fiol du sgrassier e la mia mamma ha detto boia te e claputena, clata fatca, so me